Allora gentili amici della scuola di botte, che poi gentili non siete perché se state qua a senti un video che vi spiega che cosa non mangia, sarete sicuramente dei ciccioni, gente che comunque ha 20, 30 anni, 40, 50, 70 che ce n'è ed ancora non vi siete imparati a mangiare. E questo è un problema, tutto questo nasce perché l'altro giorno sono andato al negozio, ho incontrato uno che mi fa oh ma te sei cicalone di scuola di botte, ma io ti seguo sempre, ora guarda il ciccione, faccio oh ma tu che ti mangi? Ma che ne so, ma io ancora non ho capito niente, mi mangio le cose che mi piacciono, mi faccio sempre il latte con zucchero e un bussone di piusta e qua e là, io ho fatto e no, non va bene, lui mi fa ma che devo fare? Prima cosa, pum, ho un filo sotto, lo piego, questo ma va bene, ma perché mi è venato, aia che male, qua gli faccio questo perché è un prememoria, tu andrai a casa, avrai questo dolore qua al fianco e dirai ma oddio ma che mi è successo, ah mi devo ricordare che cicalone mi ha detto che non devo mangiare certe cose, sa cosa, allora vi faccio sto video dove dico le cose da non mangiare. Allora partiamo da un presupposto perché poi voi direte è difficile, mi ricordo, le cose che non dovete mangiare devono essere cose che non esistono in natura, cioè, ti faccio un esempio, hai mai visto l'arbero delle merendine? Io non ho mai visto, c'è un albero che crescono le merendine, tu vai a cogliere la merendina e te la magni, andrebbe bene se ci fosse questo albero, ma non esiste questo albero, allora le merendine ne puoi mangiare, hai mai visto un animale che mangia una merendina? No, pure se tu al cane gli dà la merendina non se la magna, a parte certi cani che ormai si sono viziati, perché cosa succede anche in natura, no, se tu prendi un animale, pigli un cinghiale, lo inizi a levare, inizi a dargli la magna la sosseria, le secchiate di roba, quello ti diventa un maiale, che differenza c'è tra un cinghiale e un maiale? Il cinghiale è un animale fiero, che zanne, mena, pacca, vuoi di per strada, scappi eh, e il maiale che c'hai gli dai una pizza e ci fa la mortadella, c'è capito la differenza? Fai con l'alimentazione sbagliata, fai diventare un cinghiale o un maiale, figurate l'uomo, l'uomo può diventare un ciccione, che è peggio ancora, ma ciccione di quelli sformati, quelli, capito, che c'hanno un rotolo qua, un rotolo qua sotto, tre rotoli al culo, capito? E praticamente, gliene fa male, perché more ne ho prima, pure il maiale more prima, more pure prima perché ammazzano e se lo mancano, perciò fanno un duplice, la duplice catena, ammazzi il maiale, me magna il maiale, diventa un maiale, capite? Perché mangiare il maiale, spesso e volentieri, spesso gli insaccati, non fanno mai bene. Dicevamo, allora, se so cose che trovi in natura, so cose buone, se so cose che non trovi in natura, so cose cattive, perciò vi dicevo, ha mai spremuto, che ne so, il frutto della Nutella, è uscita sta Nutella? No, la Nutella la puoi mangiare, hai mai bevuto alla fonte della Coca-Cola? No, mai piovuto l'aranciata? Nemmeno. E allora sta roba in natura non esiste, la devi evitare, non la puoi mangiare. Poi, dividiamo le due parti fondamentali da evitare, i zuccheri, zuccheri in particolare raffinati e i grassi idrogenati. E voi direte, che so sti zuccheri? Raffinati e sti grassi idrogenati. Partiamo dai zuccheri, allora lo zucchero lo trovi dappertutto, dappertutto. Mo l'ultima frontiera sarà trovarlo nel dentifricio, cioè ci avrete il dentifricio e lo zucchero, che te lavi i denti, te li cari, però è piacevole. E in più in grassi, te fai vedi un po' del diabete. Lo zucchero lo trovi nel pane, hai mai mangiato i panini di fast food? Sono pieni di zucchero. Perché? Perché lo zucchero conserva, dà subito la sua effazione, è piacevole e in più dà anche prestigio. Perché? Perché avete mai sentito, oh prendi questo, c'ho zucchero, è energia. Tanta gente è convinta che lo zucchero sia energia. I zuccheri raffinati, che poi tante volte la gente se ne accorta, ha detto, oh basta, io voglio roba senza zucchero. Pure la roba senza zucchero, te fregano, usano nomi diversi, usano maltosio, destrosio, fruttosio... Ma quanti ne volete? Maltitolo! Allora dice, non contiene zucchero, ma contiene fruttosio, destrosio, maltosio... E voi andate là tutti contenti, ah oggi ho mangiato senza zucchero. Poi c'è una panza così e quello dice, scusami una cosa, ma pensa se mangiate con zucchero, che eri un pallone aerostatico mo'. Perciò dicevamo, qualunque cosa voi comprate, andate a vedere quanti zuccheri contiene. Cioè non dovete vedere se c'è scritto senza zucchero. Andate a vedere la tabella. Dietro c'è la tabella, è obbligatoria. Se c'è la tabella andate al negoziante, puu, corpo sotto piegato e tosta la tabella dei valori nutrizionali. Ma io che ne so li compro da fuori? Fai male a comprarli da fuori, perché? Perché se tu compri la roba, la vendi, sei il negoziante disonesto. Fai finta che non te ne fregava niente dalla tabella come negoziante. Ma in realtà sapevi che per legge c'è doveva stare. E se hai comprato un prodotto così, vuol dire comprare un prodotto farlocco. Così abbiamo chiuso il caso. Che c'è sta su 100 grammi 50 di zuccheri? Arcesso! C'è sta su 100 grammi 30 di zuccheri? Arcesso, cari amici, a meno che non vi state a comprare un frutto che contiene il fruttosio, ma contiene nella polpa e in tutto il resto comunque le fibre, anche per smaltirlo sto zucchero, e non solo per smaltirlo, ma per darvi un indice glicemico più basso, così che il senso di sazietà poi duri più a lungo, perché vi permette di assimilarlo più lentamente sto zucchero, non vuoi far assimilare a tutto una botta sola. Tutto il resto dovete controllare se c'è lo zucchero e quanto zucchero c'è. Evitate sempre lo zucchero in ogni caso, specie se raffinato. Stesso discorso vale per i grassi saturi. Già la parola grassi saturi. Voi ricordatevi sempre, ma che grassi erano saturi? Idrogenati, trans fat, genici, grassi. Tutto quello che c'è sta aggiunto a grassi è sbagliato. A meno che siano non idrogenati, non lo specificano, sono grassi più salutari, più adatti comunque all'alimentazione umana, ma i grassi saturi sono quelli che vi permettono di avere il vostro dolcetto che resiste a tutto. Resiste alla seconda guerra mondiale, alla terza, alla quarta, c'è sempre questo dolcetto intero. Resiste, che cacchio ne so, a un lancio dalla terra alla luna e viceversa, passa tutto in denne. Perché? Perché ovviamente c'ha sti grassi che permettono di non sbriciolarsi. C'è ne fatto mai caso che, che ne so, se qualcuno c'ha una nonna, una zia, una moglie, che sanno cucinare, che sanno fare i dolci, fanno un dolce, fatto bene, non fatto che bustine e cose, ma fatto bene secondo le vecchie tradizioni, dove invece mette grassi idrogenati, metti comunque delle cose di qualità, olio d'oliva, piuttosto che eviti che mette burro, margarina, eccetera, eccetera. E una volta che hanno fatto sti dolci, tu lo guardi e se sbriciola. Ah no, ma hai il dolce appena fatto? Ho guardato se sbriciolato. Ah, è normale, mangiano. No, ma che mi mangi le molliche? No, no, io non lo voglio. Perché poi l'idea di integrità del dolce fa sì che dà idea di sano. No, questo dolce, guarda, è stato 20 giorni sotto la pressa idraulica, non si è rovinato. È buono. Ma no, è il contrario. Se una cosa ti si rovina, ti sfrolla a mano subito, buona, è fresca. Se una cosa tu aprisci, rimbarsi, ti ha a dire, oh, ti rompo un cake, ti ritiriamo te, oh, vai, usamolo pure per dare una scartavetrata, poi se lo mangiamo, non va bene. Sono cose che fanno male quelle, cioè più sono cose durature, resistenti, che gli agenti, diciamo, atmosferici non intaccano e che i batteri non si mangiano nemmeno. Perché poi la cosa che contiene zucchero e grassi idrogenati spesso e volentieri c'hanno delle scadenze praticamente infinite. Voi immaginate le caramelle, le caramelle c'hanno scadenza. Quelle fatte di zucchero, poi. Perché lo zucchero non c'ha scadenza, non lo attacca nessuno lo zucchero, capite? Pure i batteri vanno là e dicono, oh, zucchero è veleno, namosene, capito? E voi dite, eh, sì, è veleno, eh, è veleno, fondamentalmente il zucchero fu catalogato, specie quello raffinato come un veleno. Però te lo danno da mangiare. Americani, per esempio, se sono svegliati, ora se sono ventati. No, non c'è più zucchero e mettono un sciroppo di mais. Che zucchero, poi, alla fine, no? Grassi idrogenati e zuccheri raffinati li cacciate, lievitate. Ovviamente vi ricordate dove li mettono, perché poi se andate a bar e beviate un tramezzino, con dentro tutta la peggio roba e c'è un grasso vegetale idrogenato e lo zucchero raffinato, poi mangiate il tramezzino tutti contenti, ma che sono pieni i grassi idrogenati e zuccheri raffinati. Evitiamo ste cose. Poi arrivano le farine, no? Le farine più sono raffinate e più fanno male. Se tu vai a vedere farina 0000 è una raffinazione massima. E' una farina bella la ducca, oh, che bella. Guarda sta farina, bianca bianca, morbida, leggera, sembra un zucchero a velo. E già questo vi dovrebbe far pensare che se sembra un zucchero a velo non è proprio sana, perché lo zucchero a velo non è sanissimo, anzi, di più, come lo zucchero filato, d'altronde, eh. Perciò abbiate sta farina, a toccate, a guardate, bianca, bella, pulita, splendente, senza dentro manco un insettino, niente, ah, mo me ce faccio una bella pizza, me ce faccio un dolce, me ce faccio una pasta e me la mangio. A farina 00 ve fa male. Ve fa malissimo perché è raffinata, ha perso tutti i principi nutritivi del grano, e in più ci hanno messo le cose chimiche che ve rovinano, capisci? Falla diventare così, gli devi fare una raffinazione pesante, perciò processi chimici, tutta quella roba che solo a senti il nome ve spaventereste, oddio, hanno messo il benzonio, montunio, francunio dentro, oddio, moriremo tutti le scie chimiche, capito? E voi pensate a ste cose, ma poi vi dimenticate che vedere la cosa bella pulita è proprio quello. La farina integrale in sé invece la toccate, specie quella vera, quella bella integrale, che dentro è grezza, ancora scura, che puzza pure, che magari c'è qualche insetto morto, purello, che è capitato là dentro, per sbaglio, perché la fanno a mano di una fattoria che giustamente l'ha preparata piuttosto che la fanno comunque industriale, ma almeno integrale, va molto meglio. Perciò evitate anche tutti quegli alimenti che contengono farina 00, guardate dietro, di volte c'è farina 00, ma se c'è farina integrale di altri cereali è anche utilizzabile e forse è anche meglio. Poi non vi fate fregare dai cibi finti, no? Ci sono dei cibi finti dietetici, e voi direte che ne so, scenete per strada, vedete quei disgraziati che scendono in ufficio, che gallette di riso, una faccia triste, si mangiano ste gallette di riso che da una parte gli sbrotolano tutto, gli fanno un polverone, poi comprano quelle proprio industriali, più industriali del mondo, non sapendo che le gallette di riso hanno un indice glicemico altissimo, comunque c'hanno le calorie. Poi fatte le magnale riempiono di sale, ma non sale normale, di qualità integrale, perché poi faremo anche un discorso sul sale, proprio un salaccio brutto, ultra raffinato, ultra lavorato, tirato fuori proprio da un sercio che stava per terra, se li magnano, ah poi, ah adesso sto facendo la dieta, mangio solo gallette di riso a pranzo, poi dopo tre secondi gli viene fame e mi prendo un Ferrero Rocher, ah ma adesso mi prendo anche un tramezzino al bar, proprio per fare merenda, e dopo tre secondi se sono mangiato il mondo, oltre che le gallette avevano le loro calorie e il loro sale, e in più gli hanno dato pure stitichezza, capite? Perciò, e hanno speso pure i soldi, in più erano tristi mentre le magnavano, perciò c'è anche una componente psicologica che dice giustamente, ah oh, che sto fa, ma che è sta dieta, eccetera, altri dicono, ah ma io la mattina faccio colazione coi cereali, e un po' di latte, va bene, peccato che hai comprati cereali glassati, c'è sta più zucchero che cereali, e quei cereali che hai comprati sono tra l'altro di provenienza dubbia, vabbè, ma sorvoliamo sulla provenienza dei cereali, perché se tu avessi mangiato solo fiocchi di mai, o fiocchi di riso, o quello che cacchio di fare, ti avrei detto, vabbè, peccato che sono glassati, sono ultra zuccherati, poi metti il latte, che già di suo contiene una parte dolce, ci aggiungi lo zucchero, un paio di cucchiai di zucchero, beh, che non vi metti un paio di cucchiai di zucchero nel latte, è certo, mettemoceli in un paio di cucchiai di zucchero nel latte, che fa sempre bene, no, perché comunque ti dà energia, poi altri che fanno, tirano fuori lo yogurt, ah, mi hanno detto di mangiare lo yogurt, ho preso un bello yogurt alla frutta con vaniglia e uvette cereali, perfetto. Vatta a vedere quanti zuccheri ci stanno, perché non ti sei comprato yogurt magro, quello bianco, che pare acido quando tu lo mangi? Eh, no, ma quello mi ha detto yogurt, non mi ha specificato, eh sì, ce li potevi mettere pure dentro un zampone, tanto, ti ha detto yogurt, un zampone sta dentro, è capitato, ce l'hai intinto dentro un zampone, scusami tanto, eh, poteva andare bene anche quello. Poi ci stanno quelli che arrivano con i succhi di frutta, succhi di frutta? Allora, in realtà tu vai a prendere i succhi di frutta, alcuni c'hanno la percentuale di frutta, frutta al 3%, porca midea, che c'è sta il resto? Dinosauro ci hanno spremuto dentro. Altri zucco al 100%, vabbè, con zuccheri aggiunti, ce mi hanno messo il zucco a certo tempo e ci hanno aggiunto i zuccheri. Non contenti che lo stesso frutto contiene dello zucchero, se non si chiama fruttosio, ma tu te lo bevi. Poi ce ne stanno altri ancora, mangiare il frutto è diverso da berlo, perché? Perché se tu lo spremi e fai uscire solo il succo, un po' lo allunghi o qualcosa o ci aggiungi lo zucchero. Non è la stessa cosa di avere le fibre che ti rallentano l'assorbimento dei zuccheri che sono contenute nella polpa, no? E allora, se tu mangiavi il frutto intero, rallentavi l'assorbimento dei zuccheri, l'indice glicemico più basso ti saziava di più e il corpo assimilava meglio questi zuccheri quando gli servivano, perché c'aveva un tempo di rilascio diverso. Ma tu che ne sai? Questo è il problema. Perché? Perché se stai qua e senti queste stronzate, probabilmente sei il ciccione. E lo ribadiamo questo. Poi ce stanno altri che fanno, vanno a vedere Ah, mo, mi compro sto cibo qua, che guardano le calorie. Ma se tu ti stai a mangiare uno stronzo, no? E c'ha 10 calorie, sempre uno stronzo ti stai a mangiare e c'ho 10 calorie di merda. Se sono 10 calorie o 15 calorie del cibo sano, che nella sua composizione contiene comunque tutta materia prima sana, è un'altra cosa. Una calorie non è uguale ad un'altra calorie. Poi ce stanno delle altre figure, che sono quelli che bevono tant'acqua. Allora, da evitare. Ah, mi ha detto il dottore che devo bere 10 litri d'acqua al giorno. Altrimenti non dimagrisco, altrimenti non combatta la ritenzione di idea. Questa fondamentalmente è una stronzata che spesso e volentieri fanno le donne e quelli delle palestre. I veti escono di casa con sto boccione, fa pure ride tra l'altro. Boccia trasparente riutilizzata 160 volte. De plasticaccia, che non sanno che la bottiglia de plastica tra l'altro glieli lascia a zozzeria. Avvengono al sole, arrivano in ufficio, mettono questa bottiglia, teniamola sotto al sole. Bottiglia de plastica, acqua dentro, sole che batte dentro. Acqua è fonte di vita, perciò in ogni caso genera batteri, ma fossero quelli il problema. Non fosse altro che scaldandosi la bottiglia rilascia comunque sostanze nocive, perché poi li utilizzi sempre alla stessa, perciò deteriorata. Io ho visto uno una volta, è venuto in palestra 165 volte, con la stessa bottiglia di acqua levissima riutilizzata, con l'acqua che lui ci metteva dentro. E vabbè, perché così? Perché già le comprate che sono tenute da schifo, gente le tiene sott'al sole, gente le tiene sopra a termosifone, parliamo di quelli che le dovrebbero vende. Ho visto per strada, per esempio, tanti turisti che compravano l'acqua tenuta fuori dai negozi, sott'al sole dell'estate cocente, col ghiaccio sopra. Ma che cazzo serve? Cioè, mi direte voi. Allora, proprio sto discorso di bere tanta acqua, non serve a niente, fa solo male. Il nostro organismo, che funziona bene, ci dice, quando abbiamo sete, ci sarà un cazzo di motivo. E lui e te lo dice il dottor Chiappone, il dottor Chiappone ha detto 13 litri di acqua al giorno. Ma il dottor Chiappone, ma che sta a fare nella vita? Ha studiato che? Scienze dell'alimentazione? Perfetto. Ma è capace di riparare un organismo? No. Allora, se l'organismo non è buono a ripararlo. Se tu domani hai un problema, non è che questo ti risorbe, non è che ti rifà un fegato nuovo, no. O ti rifà i reni. No, oltre che ti sei sfondato i reni, hai perso. Dottor Chiappone, non ci fai più niente. Allora, andai retta dal dottor Chiappone. Se l'organismo tuo c'ha sete, bevi. Salvo che voi non ci abbiate qualche patologia strana, non sentire più la sete, ma sareste 0,0001% della popolazione mondiale, generalmente bevete quando c'è sete. E noi d'inverno mettete là, poi bevono con la faccia di disgusto. Si forzano, ma devo bere 4 litri oggi, adesso e poi altri 4 il pomeriggio. I vedi, proprio, esce il sangue da orecchia a un certo punto a questi a bere. Ma che ve bevete? Ma che c'avete da beve? Ma c'hai sete? No, hai sudato? No, eh vabbè, ma devo combattere la ritenzione etica? Sì, combatti la ritenzione etica bevendo, cioè aggiungendo acqua all'organismo. Bella idea. Poi si forzano ad andare cesso. Ah, devo andare al bagno almeno 10 volte al giorno. Eh, faccio i 37. Fatte venire l'emorroide a forza di andare al bagno, no? A spigna, a spigna, a spigna, perché giustamente se non ti scappa poi questi si sforzano. Oddio, devi uscire perché ho bevuto. E invece no, sei ritenuta nei liquidi, insieme le cellule l'hanno assorbita e sei diventato un ciccio e una forza di beve. I regni te li sei sfornati perché hai provato a pisciare 160 volte e questa è la fine tua. Perché hai dato retta al dottor Chiappone che ti ha detto che beve 13 litri d'acqua al giorno. Cioè, capite qual è fondamentalmente il problema poi dei creduloni? Perché poi, al di là di questo, ci sono quelli che scegliono delle acque pure pesanti. Ah, però prendo st'acqua perché mi piace il sapore. E certo, vatti a vedere residuo fisso, vatti a vedere il sodio, vatti a vedere i nitrati. Ti piace il sapore? E certo, fra un po' c'è più roba dentro quell'acqua che dentro a bevanda dolcificata. Ti sei comprato l'acqua con residuo fisso che pesa come... una bottiglia pesa come un bilanciare da weightlifting. Cioè, peso specifico dell'acqua come quello dell'antimateria. Dai, mannamo su. Poi c'è sto vizio di mangià in quantità. Ah, ma io se a cena non mangio andi pasto, primo, secondo, terzo, quarto e quinto dolce, caffè, ammazza caffè, dolcetto, non me sento bene. Sei in ciccione. C'è manco una lira perché molti c'hanno una lira a grisi qua e là. Ti riempi il carrello al discount perché boh mangia tanto. Demonnezza. Poi spizzichi le patatine mentre cucinano. Au, stai a cucinà, dammi un sacchetto di patatine intanto che aspetto. Perché questi va aspettà se mangiano pacchette di patatine. E voi direte, vabbè, pacchette di patatine, so leggeri, so sottili. Sì, sì, magna, magna le patatine, vai tranquillo. Non l'hanno fritta nell'olio che ci friggi pure il motore della macchina. Perché se quell'olio tu lo metti nel motore della macchina, lo friggi. Figurate che gli fa l'organismo tuo. Quanto orto cambiano l'olio? Mai. Vabbè, può capitare. Tu l'olio della macchina lo cambia ogni tanto, se no spacchia il motore. Ma cambia l'olio della roba che ti mangi. Però tolta questa piccola cosa. Perciò questi mancano, mancano, mancano. Poi, pur di avere la credenza piena, vanno a comprare la roba più scrausa. Au, ne hai comprare quelle del mulino bianco? Compra quelle del mulino povero, che è la nuova marca del discount. Perché? Perché giustamente il discount devi fare le stesse merendine a un quarto del prezzo. Ovviamente li chiama mulino povero perché le confezioni ti scolorano le mani qua nei tocchi. Oh, c'è sta il disegno sopra, lo tocchi ti rimane in mano. Poi apri dentro, sono intagliabile, ce l'ho in coltello apposito per tagliarle. Perché c'è stato talmente tanti grassi idrogenati. Che so, grassi idrogenati con un po' di merendina dentro. Sembra una gelatina, porca miseria. E lo stesso vale per la pasta. Oh, ma perché compri quella pasta di qualità? Io ho comprato una pasta al discount di 30 centesimi, 12 chili. Una roba che manca al militare da facciano mangiare. Capito? Io sta roba non la voglio. Giustamente. Perché? Perché almeno sanno riconoscere la differenza tra una pasta di merda e una pasta decentemente di merda. Evitiamo anche di farsi i consigli, no? Perché poi c'è gente che cerca di traviarvi con dei co... Au, ma senti un attimo. Ma perché devo evitare di mangiare le cose che mi piacciono? Tanto c'è stama a rovinare la vita con tutte ste radiazioni. Ma che non sai che i cellulari ti ammazzano? Poi lo usano, se lo mettono in tasca, se lo tengono vicino alle palle sul cuore. Qua, qua, dietro ai veni. Lo mettono dappertutto sto cellulare, però li ammazza. Che non sai che con dei radio, dei wifi, ti rovinano la vita e pure i fi? Allora a sto punto, visto che tanto mi do rovinacche le scie chimiche di questi che ci vanno male, fatemi mangiare. C'ha ragione, mangiare bene. E noi che ti mangiare la monnezza? Eh, ma io una volta al mese, magari fosse una volta al mese. Una volta a settimana, magari fosse una volta a settimana. Una volta al giorno ci devo andare al fast food. E certo che ci devo andare al fast food. Te fa bene. Che ti mangi al fast food? Beh, a quelli grossi. La carne degli alieni. Au, avete visto la carne che mettono nei panini? Ma secondo voi che animale può essere quello? Secondo me è un alieno. Ma è anche alieno il pane. Cioè, premesso che è pieno di zucchero, premesso che ha un odore sinistro. E vabbè, ma ci vorrebbe un naso modificato per non accorgersene. Ma che cazzo, allora so quella roba di salse che ci mettono dentro. Ma che monnezza è? I patatini, avete mai visto? Sembrano cristalli di qualche pianeta o di qualche asteroide. Disperso dell'universo. Stalizzazione assurda che so ste patatine. Patatine e hamburger inattaccabili. Inattaccabili, se vi guardate, ci sono migliaia di test. Un hamburger lo porto a casa, ho un fila dentro all'acido che attacca qualsiasi cosa, eh. Stamburger resiste, fa muffa, non fa niente, non lo attacca nessuno. Lo lasciano sotto al sole, niente, batteri, niente, nessuno gli fa niente. Il pane rimane uguale, gli puoi fare le peggio cose. I patatine che rimangono lì possono ungere all'infinito. Tu la metti su un pezzo di carta, lo unge, poi levi il pezzo di carta, lo metti in altro. Lo puoi fare per settimane, continuare a ungelo. Figuratevi che vi fa nelle butella. Perché questo poi è il problema vostro. Tu ti ingurgiti sta roba. Quello che magni sei, oltre che, come diceva un eminente filosofo, quello che magni caghi. Poi ci sono fast food piccoli che vogliono far concorrenza a quelli grandi, perciò con meno capitale, con meno risorse, vogliono far concorrenza sul prezzo a quelli grandi. Pollo, ala di pollo fritto, impanata rifrita. Che dentro l'ala di pollo, a parte l'ala di solito la butti, no? Hai mai sto... Ah, e tu che mangi? Io ho il petto, io ho la coscia, io ho l'ala. Sì, le piume ti magni. A zeppo, al coso. Magna della testa del pollo, fai prima. Gli dai mozzi, con la cresta, la stacchi, il becco. Premesso sti pori polli, che son manco polli, son broiler. Vengano allevati in batteria, poveracci, che fanno di tutto e di più, gli danno antibiotici. Basta vedere il par di video, ce ne stanno due milioni. De sti polli che in un metro quadro sono cinquantamila. Antibiotico, e cagate addosso a tutti. Alla grande, mangimi, si mangiano i pezzi dei maiali che sono avanzati, fritti, rifritti e tritati. Ma poi, andate a sti fast food qua, gestiti da gente losca. Entri, vedi, uno, ciccione. Tutto unto. Che ha le mani più unte dell'unto. C'ha le mani talmente unte che se le mette nell'olio, l'olio si sporca. Se unge l'olio. Cioè, è una cosa impensabile. Eppure è così. Cioè, vi capita proprio di vedere davanti a voi, se questo qua mi serve da mangiare. Quello lì dietro che ho visto lo fa da mangiare. Meglio che chiamare un'aranze funebri, perché sicuramente tra un quarto d'ora stramasso per terra. Ma domandate la stessa cosa, no? Ma tu magneresti dentro la tazza di eccesso? E' peggio che mangiare dentro la tazza di eccesso, è più sozzo. Perché la tazza di eccesso almeno ogni tanto ti riacatena, se spera. Lì no, agatenati non lo aggiungi altra merda. E quello è il problema. Perciò evitiamo i fast food, sia piccoli che grandi. Ma evitiamo anche i ristoranti schifosi. Quali sono i ristoranti schifosi? Beh, mi son mai capito questi ristoranti etnici dove c'è scritto RISTOLANTE CINO-ITALO-GIAPPONESE-TAILANDESE. Entri là dentro, 10 euro, mangi tutto quello che vuoi. Che vuoi? Pizza, sushi, pasta, ting-tac o bon-pon o cibo cinese? E tu dici, vabbè, voglio assaggiare un po' di tutto. A casualità vuole che qualunque cosa tu mangi ha lo stesso sapore. Qualunque dal salmone crudo, a pasta al forno, ai ravioli primavera. Dici, oh, mangiati i ravioli primavera hanno lo stesso sapore del pesce, che ha lo stesso sapore della pizza, che ha lo stesso sapore della pasta, che ha lo stesso sapore del dong-tong. E tu dici, oh, e che sarà? È che vanno fregate il glutammato monosotico, mettono dappertutto, così pure te mangi una scarpa c'ha un buon sapore, saltatore di sabidità. Che ve fa male? Ve fa morì e ve fa ingrassà. Che poi ingrassà e sinonimo morì, perché più di anti-grasso più sta vicino alla morte, no? Hai mai visto un ciccione che arriva bello, felice, alla vecchiaia? No, arriva una vecchiaia con tutta una situazione pregressa, difficile, complicata, del livello cardiovascolare, al livello di mobilità, al livello di resistenza, di memoria e tutto. E allora, evitiamo queste cose, scusatemi, no? Evitate questi ristoranti a basso costo. Evitate pure gli integratori miracolosi. Capita sempre un amico, un parente, un vicino, uno che dice che vi conosce, ma voi non avete mai visto in vita vostra? Ma come ci siamo visti una volta alla posta, tu stavi alla fila numero 4, alla fila numero 7, a me mi è caduto un foglio per terra, tu mi hai fatto, guardi, l'è caduto un foglio, ti ricordi, grandi amici, vabbè, che vendono degli integratori miracolosi. Guarda, questo è fatto tutto con erbe naturali, colte in Amazzonia, prima del disboscamento, tutte miste insieme. In un grammo di queste qui ci stanno dieci pasti e energia e in più non ci sono i grassi. Ammazzalo, sono proprio integratori miracolosi. Senti, ma quanto vengono? No, no, non ti preoccupare, ti do un primo barattolo gratis e tu intanto mi fai l'ordine di 50 barattoli dopo, così li provi, vedi come ti trovi e tu te vi sti integratori. Ma tu come te senti? Giustamente, è il tuo amico, ho preso un totale, ah, ma io mi trovo benissimo, pensa, stavo per morire, ho iniziato sti integratori, mo sto benissimo, vabbè, se questo stava per morire, mo stavo con sti integratori, stava benissimo, io mi auguro proprio che li possa arrenda anch'io, perciò vi trovano anche in una situazione in cui li volete, glieli chiedete sti integratori, sono tutte stronzate, sono tutte stronzate, ma secondo voi, no, st'integratore miracoloso tutto in uno che c'è fai pranzo, cena, colazione, puntine di mezzanotte, eccetera, eccetera, che effetto ve faranno? Niente, ve faranno venire ancora più fame, dopo non starete manco più attenti a quella maggiore, diventerete famelici, pottini, io devo mangiare, qualunque cosa vedrete in frigo, ma la mangieremo, c'è il panetto in buro, ponfilato in bocca, tutto, tutto insieme. Allora, devo mangiare, c'ho bisogno di calorie, c'ho bisogno di zuccheri, c'ho bisogno di energia, eccetera, se sei bevuto l'acqua sporca per una settimana, come minimo, qualunque cosa te la mangi, te puoi mangiare pure una borsa di pelle, perché poi ci sono sti dieti altrimenti, ma tu che te mangi, hai una borsa di pelle alla mattina e sto bene tutto il giorno, sì, poi vallati fa la borsa di pelle, eh? Sta riempita la panza, ma che ce fai? Attenzione pure al sale, non ti mangiare, il sale è importante, serve, eccetera, eccetera. Attenzione che c'è sta il sale, dici, ma il sale è sale? No, c'è un sale integrale, e dentro ci trovate magnesio, calcio, iodio, e c'è un sale, che è quello ultralavorato, lo fanno proprio piano un sasso per terra, cioè fanno il sale, praticamente lo scompongono in mille parti, che c'ha niente dentro, è un sale povero. Ed è molto importante differenziare, perché basterebbe provare il sale grosso integrale rispetto al sale grosso, quello stupido, già quando cucinate la pasta e sentite la differenza. Vi volevo dir, da una chicca, perché poi questa c'entra poco con l'alimentazione, sì, ma tanto poi parte sempre sti fenomeni qua, che ve li trovate. Ma vedi sta, la gente è ripartita con i braccialetti dell'equilibrio. Si emettono i braccialetti dell'equilibrio. Stavolta hanno fatto ancora meglio, una volta che facevano, sai, una plastica, con dentro una cosa misteriosa, che poteva contenere un chip, poteva contenere una super batteria magnetica. Mo' so dei nastri trasparenti, co' disegnati circuiti. Disegnati! Una roba tipo prendi lo scotch, quello trasparente, classico, piccolo, sottile, c'è disegno i circuiti, io metti al porsamo e dici, vai tranquillo. Adesso è stato ristabilito l'equilibrio magnetico del tuo corpo, da domani dormirai sempre, starai bene, energia al massimo, potenza sessuale, corri più veloce, respiri meglio. E lui dice, ma io sai che c'ho avuto mal di testa? Ammazza. E ma pensa che mi moglie c'ha avuto le morroidi? Passano le morroidi? Ah, ammazza. Senti, e mi fio invece che c'ha la rinite? Passa la rinite! Qualunque cosa tu gli dici, con sto braccialetto passa. Non ho capito che cosa faccia venire. Però tu te lo metti, sto braccialetto, non te lo devi più levare. Costa poco. 50 euro per un pezzo di scotch con i circuiti di disegnato. Secondo me sti signori stai pure furbi, perché devono fare poi gli upgrade, devono dir che dentro c'era un cipettino, che una volta l'anno, una volta al mese, andavi da loro e loro col computer te lo aggiornavano col nuovo firmware. Perché mu funziona sta cosa, ma guarda ti lo aggiornano col nuovo firmware, certo se paga 5 euro, poi a fine non gli aggiorni in cazzo, fai finta prendi solo un programmino che scarica e fa girare i numeri e automaticamente questi si pensano che gli hai aggiornato il nuovo firmware e pagano. Perciò, amici cari, ciccioni, disgraziati, gente che magna a zozzerie, allora evitiamo di mangiare le porcate, perché mangiando le porcate diventate più deboli, diventate prede, perché voi immaginate, no? Gli animali si prendono tutto il tempo per mangiare. Avete mai visto un animale che magna di corsa? No, l'animale prima studia, che mi devo mangiare, la preta, devo stare il frutto, poi se lo magna con calma, la preta sta a sbrano, salvo che non gliene rompe le palle qualcuno. Avete mai visto un avvortoio che si mangia un hamburger per terra? Manca i piccioni se li magnano. Voi guardate, gli date un pezzo di pane del fast food, al piccione se lo magna, gli date una rosetta vecchia se la magna, magari. I topi, manco loro se mangiano la carne di fast food. Escono, vede una monezza del fast food e girano live. Qual è la cosa che è naturale? Qual è la cosa che funziona? Qual è quella cosa che io trovo in natura? Tutto il resto è una fregatura! Saluto! Saluto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.